La conferenza dei sindaci del piano di zona S9 ha approvato all'unanimità la programmazione dei PAC. Sono stati previsti 500.000 euro da destinare agli anziani non autosufficienti attraverso l'assistenza domiciliare e il telesoccorso. Altri 300.000 euro sono stati destinati ad attività e strutture utili per i bambini fino a tre anni. Un PAC di 800.000 euro che il piano di zona presenterà entro il 14 dicembre al Ministero per ottenere il finanziamento. Alla seduta erano presenti 16 comuni su 17, l'unico assente Santa Marina. Di qui la decisione dell'Assemblea di diffidare il Consiglio Comunale Santamarinese ad approvare la convenzione del piano di zona così come hanno già fatto gli altri 16 comuni. Inoltre il coordinamento ha preso atto della recente delibera dell'Aggiunta regionale che revoca il commissariamento dell'ambito. Un provvedimento, ha dichiarato il sindaco di Sapri, Giuseppe Del Medico, che conferma l'atteggiamento di prevaricazione dell'Aggiunta Caldoro nei confronti dei nostri comuni. Per questa ragione continueremo la nostra battaglia giudiziaria contro i provvedimenti illegittimi che il governo Campano aveva adottato per commissariarci. Il 19 dicembre ci sarà la discussione davanti al Tarra. Questa mattina i sindaci hanno disertato l'incontro in regione con l'assessore russo, ritenendolo inutile alla luce dei nuovi sviluppi sulla questione commissariamento. Per i sindaci, ora più che mai, per riportare la serenità nell'ambito basta che il primo cittadino di Santa Marina firmi la convenzione. L'assenza in regione degli amministratori locali è stata commentata negativamente dal presidente del Consiglio Santamarinese Giovanni Fortunato. E' strano che non si siano presentati ad un incontro dal loro richiesto, evidentemente non vogliono trovare un accordo per consentire al Comune di Sapri di gestire i fondi per i servizi sociali. Questo mi spinge nuovamente a battermi per il commissariamento a tutela degli interessi territoriali.